Il Napoli Soccer vince per 5 a 0 contro gli Amici del Coniglio, quando è appena iniziato il secondo tempo. Un approccio alla gara non dei migliori da parte della squadra di Rondinella. Adesso annunziata, serve la magna, va via sul sinistro, in uno contro uno, la mette dentro, si salva in calcio d'angolo la difesa degli Amici del Coniglio. Davino dalla bandierina, la mette dentro dove c'è, però solo Caffasso che subito fa ripartire il contropiede dei suoi, con Gerardo che però De Marco non riesce a tenere in campo il pallone. Gerardo De Marco intanto porta a 6 il punteggio per i suoi, 6 a 0 dunque. I Amici del Coniglio sono pronti a riprendere il gioco. Chico è pronto per riprendere il gioco, Rondinella, cucchiaia per un compagno che non riesce a tenere la palla in campo. Poi Davino si accontenta della rimessa laterale, serve annunziata, ancora il numero di Davino. La palla sta per ancora Davino, serve annunziata, ancora con Davino il triangolo, poteva calciare in questa circostanza appena annunziata. Non lo ha fatto ma Davino ha già recuperato palla. Va via, la palla è ancora in gioco, la mette dentro per De Marco, ancora il tiro rimpallato, 6 a 0.